ok ragazze mi avevano suonato per fare un acquisto quindi ho dovuto interrompere ma c'era ancora spazio per registrare strano mi ricordo dove sono arrivata con questo vestito però con questa maglia scusate per farvela vedere è meravigliosa a monospalla e poi praticamente ha tutto lo strascico questo è veramente un capo da paura e io l'ho pensato tipo con dei pantaloni non so, dei pantaloni tipo a vita alta, dei leggings in ecopelle o non so voi cosa mi consigliate? secondo voi come starebbe bene? fatemi sapere dai che è proprio un capo bello da boutique secondo me bello, fatto molto bene anche come tessuto, come linea eccetera eccetera poi sempre, vediamo perché, devo capire dove ho preso le cose ah sì, sempre a un euro, ho preso questa magliettina nera perché appunto siamo sempre alla ricerca di perché sono sempre luminescente, perché fuori piove come che è siamo sempre alla ricerca di magliettine nere basic da utilizzare e io tipo veramente come le calze che non ho per chi non utilizzo i calzini, sono quelli un po' carini da far vedere non ho calze di cotone, ne ho troppo a troppaia ma così per andare a dormire quando è inverno o freddo cioè no, non li utilizzo proprio perché uso sempre i collant anche praticamente quando sui pantaloni oppure taglio i collant o faccio tipo calzino però sempre comunque in quel tessuto lì perché odio il cotone non mi piace l'effetto addosso, i calzini, non mi piace e praticamente come appunto i calzini anche le maglie nere le cerco sempre nell'armadio non le trovo mai, queste in particolare mi piace perché si può portare appunto così vedete il collo è un po' cioè sapete ecco così, io adoro le maglie fatte così l'estate che facciano vedere le spalle, è una cosa che proprio mi piace molto e è una magliettina semplicissima, nera, in jersey quindi sono quelle che lavi e non stiri neanche e sono pronte all'uso poi scopriamo insieme, ah questa mi fa troppo ridere, una tuta allora, ho preso una tuta che non ho neanche ben capito come è fatta però mi piaceva un sacco la marca è della Fard, è della Fard credo perché c'è scritto Fard qualcosa è una tuta tipo da meccanico nera io adoro le tute, le jumpsuit corte lunghe sono tra i miei capi preferiti le avete viste, è lunga, l'ho indossata ancora trovo che sia un capo elegante, trovo che sia un capo versatile adatta ad ogni occasione, sia di giorno che di sera che di pomeriggio adatta a qualsiasi cosa, vai a un compleanno, vai a una cena, vai al lavoro vai a farti una passeggiata, la tuta è proprio un capo top e ti veste con poco, cioè metti su quella, fai due accessori, un trucco adeguato e sei vestita, quindi è un capo per me molto bello sia in inverno che in estate, in estate poi le adoro questa tuta qui praticamente è stranissima, è fatta così e poi mi ha colpito tantissimo, cioè vabbè è una tuta normale nera che dite vabbè, cioè sai che strana cioè mi è colpito tantissimo la parte qui della gamba perché ha questa tascona incorporata e boh mi ha fatto troppo sorridere ho detto bah, chissà com'è addosso poi mi piace molto, è proprio morbida nera e ha queste due tasche appunto a livello praticamente sopra il ginocchio ha queste due tascone che boh mi facevano un po' l'effetto tipo meccanico chic e l'ho voluta prendere poi l'ho pagata un euro, cioè voglio dire a un euro si doveva comprare poi in un altro banchetto invece per chi fosse della zona o che va al mercato di Brescia quello che è proprio verso la fontana in piazza Vittoria dove vendono anche le borse e purtroppo anche tipo le pellicce c'era una parte di stand dove vendeva praticamente degli abiti un po' eleganti un po' trash anche da cerimonia comunque da festa tipo in paillettes con tutte le paillettes eccetera per andare a ballare e io mi sono messa anche lì a frugare un po' ho trovato, è stato molto interessante diciamo frugare in quel banchetto lì e ho trovato questa meravigliosa gonna che adoro che è di Atos Lombardini non so se conoscete la marca Atos Lombardini, versione vintage perché c'è un'etichetta molto antica è una marca che costa un bel po' e sono stata contentissima è il mio primo capo di Atos Lombardini credo è tipo nera così un po' tipo versione zebrata però ton sur ton è fatta così con le doppie pieghe bellissima questa gonna sia in inverno che in estate è un bellissimo tessuto anche che sembra un simile set a raso rigido poi ho preso quest'altra magliettina maglia abito anche questo ero lì tipo in tenta quando avevo già degli acquisti in mano qualcosa avevo dato a mio zio però mi faceva troppo sorridere la cosa perché è bruttissimo tipo con una mano dovevo cercare i capi mia sorella con l'altra mano è un po'